quello iniziato oggi sarà il mio ultimo giro italia come ho detto ieri nel mio post sarà il mio decimo e ultimo giro italia dopo 14 stagioni professionista ho deciso che che appunto questa qui sarà la mia ultima quindi grande emozione per questo appuntamento cercherò di fare il mio meglio per tutto per tutto il giro per me per la squadra perché davvero in questi mesi mi ha dato tantissimo l'aerolo cometa e mi piacerebbe davvero ripagarla questa decisione perché 14 anni di professionismo sono tanti mi sento comunque di aver realizzato anche i miei sogni e di aver raccolto quello che potevo raccogliere quindi posso solo che ringraziare questo sport e niente sono comunque felice perché sono stati 14 anni veramente veramente intensi di gioie e di dolori ma come come spesso accade bisogna prendere decisioni e io ho preso questa decisione totalmente da solo e vedremo poi con il futuro cosa mi riserverà il sogno ovviamente sarebbe poter ripagare la fiducia di questa squadra vincendo una tappa a distanza di 11 anni sarebbe veramente un bel regalo perché una tappa l'ho già vinta proprio nell'anno che Ivan poi ha vinto la classifica generale quindi sarebbe veramente un coronamento di una discreta carriera per me e per appunto per il team perché davvero pochi mesi mi ha saputo dare tantissimo e mi ha supportato nei momenti difficili come pochi giorni fa per l'infortunio che ho riportato in Turchia ha voluto fortemente che io fossi qua e quindi è molto importante che io riesco a dare il 110 per cento per l'uomo